L'altezza di questo sono circa 2,5 metri, i lampadari sono tutti all'inizio, esteri, interni, giustizia, sono posizionati qua, ma nel palazzo ce ne sono 7. Grazie. 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 Non è piatto. Sì, non è piatto. Mentre mi sono l'inforio, è lo scherzo. Questo è il mio conforme. Ascolti. Sì. Grazie a te. 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 Per l'Oscar. Ja, ma mia.